Come sempre instancabile, Cosimo Limardo ha avuto una nuova idea per rivacizzare Calimera, la frazione popolosa di San Calogero, unendo la voglia di leggerezza e di spettacolo tipica del periodo estivo con la solidarietà. Ecco quindi la due giorni che ha caratterizzato l'ultimo fine settimana con la realizzazione dell'appuntamento Profumo di Mamma, serate dedicate alla memoria di tutte le mamme scomparse per l'organizzazione a cura dell'associazione Dognocchi Voglia di Vivere e dell'Unione Nazionale Italiana con il coordinamento dello stesso Cosimo Limardo. Prima serata in Piazza Fontana con il concerto di Peppe Chirulli, quindi doppio appuntamento con Gianni Beger e poi Gigi D'Angelo con sempre tanta musica e tante esibizioni canore. Il ricavato delle due serate sarà devoluto alla Banca delle Visite, come si ricorderà la Banca delle Visite da qualche mese presente anche in Calabria grazie alla Presidente dell'associazione Voglia di Vivere ed è pensata per evitare le lunghe attese per una visita medico-specialistica. Ecco perché l'estate a Canimera è stato un piacevole connubio di musica, spettacolo e soprattutto solidarietà. Grazie. 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 Grazie.